La musica classica, vorrei sottolineare, è sempre stata per me una luce, una guida. Lui è busy, già il compositore. Prete è un grandissimo amico della filarmonica. Il 1 gennaio 1908 è la data che vede il debutto di Gustav Mahler al Metropolitan Opera House. Prete non dirige la musica, la interpreta con tutto il corpo. Sta dormendo? No, no. La genesi della sinfonia copre dunque quasi l'intera parabola biografica di Gustav Mahler. Anche questa è la carriera di un musicista.